questo terrorismo psicologico ma cosa è successo? non lo so poi quando tu sei qua non vedi e allora io seguo lei io sono signore sono signore io sono signore ah 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 holla Sì. che l'onigno piange che l'onigno il mio piangere cosa c'è lì? ma sì, ma sì, grande farina grande farina sta sentinella mamma mia ragazzi poi vedi proprio come lavora quando la lasci un po' giocare, vero farina? quando la lasci un po' giocare vedi com'è proprio eeeh voglia che va ancora lì ciamberì, il grande ciamberì come cazzo è? e qua c'è un po' incuriattiamo eh è tutto divertente vai farina, vai vai che serricchione che serricchione è che bravo eh cazzo ragazzi eh 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 qua ci vuole il peluccio dai bisogna stare tutto largo destra eh l'ho fatta sulla bici mai sì ma lì lo fai cioè lo devi fare molto piano stai su boh esatto così a fare si fa a fare si fa a fare si fa impressionante una città sì questa serta spiè un bel proprio e quando la blocchi tutta piano non bloccarla tutta non bloccarla tutta ok è ottimo attraverso ragazzi piano è non bloccare le ruote vieni senza bloccare le ruote però non bloccare le ruote piano non troppo veloce e che cazzo non troppo veloce bello però mamma mia quanto pedo andiamo a tuffarci bello bello sto sentiero che lavoro oggi ragazzi mi sa che abbiamo finito sai slow down slow down slow down a via a robbia viel bello è maid es in me alle moviment Evi moed, e moed, e moed